Come distinguere un gatto maschio da una femmina? In questo tutorial di oggi vediamo come distinguere un gatto maschio, un maschietto da una femminuccia. Innanzitutto aspettare che i gatti abbiano almeno 4-6 settimane di vita per determinare in concreto in ogni astratto il sesso del gatto, per capire se si tratta di un maschietto oppure di una femminuccia. Regola fondamentale è quella di osservare la distanza tra l'ano, che è appunto il budino da cui fuoriescono i feci, gli escrementi, e gli organi genitali. Bisognerà chiaramente alzare con molta delicatezza la coda senza tirarla, così da esaminare la parte interessata. Se la distanza tra i due orifizi è molto ampia e molto elevata, si tratta molto probabilmente di un maschietto, di un gatto maschio. La femmina invece ha una distanza molto vicina tra l'ano e l'organo genitale, quindi si tratta di una femminuccia. Anche per quanto riguarda la forma dell'orifizio genitale, ci può far capire se si tratta di un maschietto oppure di una femminuccia. Infatti se è tondeggiante come l'ano, probabilmente si tratta di un maschio. Mentre se è più simile ad una fessura, ad una fessurina verticale, si tratta molto probabilmente di una femminuccia. Ed infine, ultima regola, osservate il colore del mantello. I carico, tartaruga, il pelo è colorato a chiazza arancioni, crema, cioccolato, nero e striate, bianco. E sono solitamente di appartenenza delle femmine e delle gattine. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Iscrivetevi, commentate. Un saluto caro e al prossimo tutorial da Ariandro, narratore italiano. Grazie a tutti.